Stravince gara 3 e passa ai quarti un Abba Pineto caricato a mille, travolgente, bellissimo, strappa applausi in una serata che evoca una certa tempesta, perfetta. La Versa sotto tono perde a 12, 14, 16 i set in soli 67 minuti ed è tutto dire. Impeccabili a muro i ragazzi terribili di Rosichini, 13 cortine vincenti, oltre a 7 ace, attacco al 71%, ma anche battute finalmente determinanti e ricezione di ottima qualità fra il 73 e il 32%. Il tutto sospinto in particolare dalla vena e non solo ieri di Tim Meld con cifre bulgare per l'italo-olandese 18 punti, 86, 43 a ricevere, 3 ace, 2 mure vincenti e addirittura udite udite 100% in attacco con un 13 su 13. E ora, nei quarti, l'Abba Pineto affronterà il forte Motta di Livenza, domenica 25 in Veneto, gara 2 in Abruzzo, domenica 2 maggio, eventuale Bella, mercoledì 5 maggio in terra trevigiana.